buf 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 ciao ragazzi buf 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 grazie di essere qui con me oggi oggi un video un po' improvvisato che non era programmato assolutamente ma che ho pensato di fare perchè ho detto alla fine può essere una piccola pillola di sml perchè mi sono detta alla fine può essere una piccola pillola di sml me l'avevi richiesto tanto questo trigger e sicuramente lo includerò nel prossimo video di mosti o no 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 però intanto mi sembrava carino fare 5-6 minuti di questo trigger e anche 10 dai però vi dichiaro un video a questo trigger ma qualche altro sporadico o no 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 non so qui dentro ah nel mondo italiano desi desi magic è stata la prima portale il buf buf e da lei che l'ho scoperto e lo fa benissimo però vorrei che lo facessi più spesso perchè è stupendo come lo fa lei però lo voglio anche all'estero ok perdonate per la mia spugnetta legge la devo cambiare buf 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 mettiamo questa cosa mettiamo questa cosa quando arriveremo ai 30.000 like sotto questo video speriamo di arrivarci non sarei farò un altro video di a new show notes o comunque che comprenderà il buf come trigger vediamo quando riusciamo ad agli farci o proprio lo farò comunque però prima ci arriveremo prima lo farò buf 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 ok stendiamo il fondament buf 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 e adesso un po' di correttore lo andiamo a stendere mi piace anche tantissimo io sto uscendo di tutto e l'umore è proprio della spugnetta adesso provo a cambiare inquadratura già provo a... ditemi se vi piace di più boff 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 poff Puff 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 Flupy 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 Puff Lungo tutto il viso Puff 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 ditemi anche se vi piace più lento o più veloce facciano veloce o più lento ok torniamo all'inquadratore normale e adesso facciamolo un pochino con il pennello ma prima abbiamo un pennello abbiamo questi splendidi microfoni non lo facciamo un po' di brushing quindi prendilo un po' come un brushing e adesso faccio vedere qui un po' sinistra e un po' a destra non mi ho sbagliato ragazzi lo faccio al contrario ok ok e mi ho sbagliato perché questi microfoni ce li ho al contrario adesso per poi avere l'audio giusto quando vado a montare vabbè quindi sempre questo bellissimo pennello con l'interno blu 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 andiamo a fare un po' di brushing prima giusto un pochino perché non fa mai perché non fa mai male per poi fare un po' di puff 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 Puff, puff, puff Puff, puff, puff Puff, puff, puff Puff, puff, puff Tup, 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 tup Tico, 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 tico Non so perché non faccio le shampoo sounds E ancora un po' con la spugnetta prima di darmi la buonanotte questo mi sarebbe stato un po' forte ma volevo appunto dedicarlo a questo drinker e per la buonanotte prenderò un altro argentino che amo perché adesso mi sembra una bella combo gelatino e farò un po' di soli con il gelatino per la buonanotte adoro questo sono il puff puff proviamo una combo Puff, puff, puff Puff, puff Puff, puss, puff Puff, puff puff, 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 puff puff, puff, puff che combo oh mio dio comunque non l'ho visto quando erano buona notte avrà un micro tagando giusto due o tre altri buu 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 ok penso quindi sia aggiunta l'ora di abbassare l'uomo e augurarvi una buonanotte 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 soñitor 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 signise nie buonanotte buonanotte Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Sabe di quando questo inserimento ma io un altro Buon appetito! Adoro Ok Ok Buon appetito! Buon appetito! Un bacione Te lo spero Te lo spero Grazie a tutti.